L'ideale dell'iniziativa è nata nei giorni immediatamente successivi al terremoto quando ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare. Noi ci occupiamo di lavorare con le imprese, quindi la prima idea è stata quella. Abbiamo cominciato a coinvolgere altre aziende private e da lì ci siamo messi in rete ed è nata questa idea. L'idea è quella di creare un portale che consente alle aziende del territorio di promuoversi in un modo diverso, anche verso nuovi clienti. Il portale è ormai da una decina di giorni, le prime aziende hanno cominciato a presentarsi e i primi acquisti stanno avvenendo. È chiaro che in questa fase il tema diventa quello di riuscire a comunicarlo, raccontarlo e fare in modo che tanti consumatori solidali si propongono per dare un supporto alle imprese di questo territorio. È un'occasione che abbiamo voluto cogliere e consegnando il patrocinio della provincia di Modena perché riteniamo che questa sia un'opportunità importante fatta gratuitamente che mette in gioco la relazione tra le aziende terremotate e il mondo che c'è fuori attraverso uno strumento, quello del portale, impostato come un social business, come si diceva prima, in grado di costruire delle opportunità nuove per le imprese già così duramente colpite nei vari settori. Si tratta di un progetto di grande rilevanza, anche perché questo è il primo terremoto, la prima ricostruzione che si può fare sfruttando e utilizzando fino in fondo la rete social network, così come la rete ha rappresentato un punto di riferimento importante per la segnalazione di emergenze, di difficoltà, di comunità che potevano lanciare appelli e richieste che venivano puntualmente raccolte dalla protezione civile, oggi proviamo ad utilizzare la rete per la ricostruzione e la ripartenza. L'Assemblea legislativa svolge un ruolo di garanzia perché le tante donazioni, le tante persone, le importanti aziende che sono dietro a questo progetto e che hanno dato la strumentazione necessaria hanno ovviamente chiesto la garanzia che tutto questo fosse finalizzato alle persone e alle imprese colpite dal terremoto e con finalità di ricostruzione reale, quindi un ruolo di garanzia in termini di trasparenza, in termini di gratuità di tutto ciò che avviene da parte dei professionisti, delle aziende che vogliono supportare questo e che ogni euro utilizzato per l'acquisto sia un euro che va alle imprese che hanno realizzato il prodotto acquistato e quindi possono utilizzare quelle risorse per ripartire.